Siamo nel nostro stand di Fonditalia, la BTM 2024, la Fiera di Levante di Bari, con Daniela Di Saniello, responsabile ufficio di formazione di piedi al canziano. Benvenuta, Daniela. Buongiorno. Daniela, siete particolarmente attivi nel campo della formazione finanziata ovviamente, la valide del Cisano Trento di Fonditalia. L'anno scorso siete stati molto impegnati sul fondo di nuove competenze? Sì, l'anno scorso siamo stati impegnati sul fondo di nuove competenze, abbiamo presentato come entrambatori diverse stanze ad Ampal per aziende, per nostra azienda, e stanze che sono andate a profune. Infatti adesso le aziende stanno ricevendo i finanziamenti da parte di Ampal, successivamente avrebbero ben di portare quei progetti in fondo all'Italia, che erano i progetti naturalmente e presentati tramite tutto il finanziamento di scuola. Quindi, perché il fondo con l'Italia è stato uno dei primi, se non è il primo, e il fondo interprofessionale a dare l'adesione all'acqua, praticamente, ad aderire al fondo con l'amplice. Abbiamo fatto un buon lavoro, quindi stiamo accogliendo i frutti del lavoro. Puoi darvi un bilancio positivo di questa esperienza? Ti aspetti anche una liveazione? Così si vociferava.